Nella conferenza di bilancio di fine 2022 il sindaco di Pesaro Matteo Ricci aveva aperto aspiragli importanti per il futuro dell'ex Bramante nell'anno nuovo ed ora le ultime indiscrezioni aprono una pista in tal senso. Parliamo dell'imponente edificio che vedete alle mie spalle, edificio che si trova al confine tra centro storico e zona mare, ex Bramante che è di proprietà di cassa depositi e prestiti che da tempo sta sondando la possibilità di acquirenti per questo edificio e sembra appartenere a questa categoria l'università privata Link che ha sedi a Roma e Napoli e che sarebbe interessata ad allargarsi sulle marche, regione in cui da mesi sarebbe stato individuato proprio l'ex Bramante come sede idonea e per la quale la Link avrebbe già inoltrato richiesta a regione conferenza di rettori per poi fare altrettanto con il ministero dell'università e della ricerca. L'idea è quella di creare a Pesaro lo spazio per corsi come medicina, chirurgia e scienze della formazione primaria. Al momento non ci sono conferme da parte del Comune che starebbe mettendo sulla bilancia se la necessità di trovare una destinazione al palazzo con un ateneo privato che si farebbe pure carico degli oneri di ristrutturazione possa andare in conflitto con la recente apertura dei corsi allargati su Pesaro negli ultimi anni dall'Università Politecnica delle Marche. Di certo resta il fatto che il Comune ha necessità sempre più impellente di dare un futuro a questa struttura strettamente legata agli oneri di urbanizzazione per l'idea di l'interramento della statale all'altezza di Viale della Repubblica e della stessa riqualificazione di Largo Aldomoro.